Amici di calciomercato.com, siamo qui da Milanello dove ha preso parola Vincenzo Montella alla vigilia di una gara importante come quella del Cagliolo, una gara che può dare seguito all'entusiasmo generato dalla vittoria di Supercoppa italiana ma soprattutto deve dare l'infa per inseguire quello che è l'obiettivo principale del Milan, cioè quello di tornare in Europa, un Europa League o in Champions League. Quindi inevitabilmente il raggiungimento di questi traguardi possono arrivare, passano assolutamente dal mercato, un mercato che Montella si aspetta comunque da protagonista, non un mercato in tono rimesso come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni perché comunque si aspetta un esterno offensivo e la priorità più che il centrocampista centrale lui si aspetta un esterno offensivo. Vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni delle difficoltà incontrate dal club rosso-nero per portare avanti la trattativa relativa a Gerard de Lofeu, dell'Everton, anche lo stesso tecnico Koeman non è così convinto di lasciare l'esterno catalano. Però Montella fa in questo senso anche un appello alle due anime della società, due anime che mi riferisco da una parte Gagliani e Maiorino, dall'altra Fassone e Mirabelli che in questo momento non sono trovando dei punti di incontro sulla gestione di quello che saranno le linee strategiche sul mercato. Montella fa una richiesta a loro, questo Milan ha il dovere di essere rinforzato, se ha le possibilità ha il dovere di essere rinforzato, le parole appunto del tecnico Campano e quindi apre anche alla possibilità di poter sacrificare i giocatori che comunque si sono rivelati scontenti. Ha raccontato di Luiz Adriano, probabilmente andranno via Vangioni e Rodrigo Eli e ha anche parlato della situazione di Bacca e Niang, due giocatori secondo lui considerati non incedibili come non è lui stesso, ha la sua stessa ammissione, però da quel che ci risulta difficilmente, anzi le possibilità sono vicine allo zero, di una partenza di Bacca in questa sessione di mercato. Tutte le valutazioni andranno, come vi raccontiamo spesso, a giugno, quindi per il momento Bacca non verrà messa sul mercato, lo stesso dicasi per Niang, un giocatore che comunque non ha grandissime richieste in questa sessione, soprattutto anche a livello numerico, un giocatore molto importante. Quindi l'appello di Montella è che per raggiungere gli obiettivi che il Milan si è prefissato e per dare seguito al livello di convinzione e di competitività che comunque la formazione rossonera ha ritrovato in questa stagione, c'è bisogno di almeno uno o due tasselli, considerando che nel centro capriccio dell'ambienza centrale Montella ha anche l'idea di poter utilizzare con più frequenza Bertolacci in quel ruolo. Quindi Badel sappiamo che è molto difficile, non è una priorità ma il Milan ci proverà fino in fondo, però nel ruolo di esterno offensivo che possa dare il cambio a Suso e Niang e Buonaventura, Montella in quel campo specifico si aspetta un rinforzo di qualità.